Cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento editoriale con Carpo Online. Il protagonista di questo appuntamento è il Lago del Salto e una manifestazione che anche attraverso il Lago del Salto si andrà a sviluppare. Ma non è soltanto di agonismo e di gare, di competizione, di eventi molto importanti che vorrei parlare. Vorrei fare prima di tutto un piccolo salto indietro. Nel precedente editoriale sottolineai l'importanza di fare corpo unico, essere coesi per cercare di proteggere il Lago del Salto da quella vergognosa situazione che si è andata a creare con la riapertura della pesca professionale con le reti all'interno del bacino. In tante avevano scritto precedentemente e decisi pertanto, sentendomi con i collaboratori di Carpo Online, di proporre l'idea di fare corpo unico, di cercare di avere un'azione unitaria per poter esprimere la nostra protesta nei confronti di una situazione che è veramente imbarazzante. Poche persone che fermano e rallentano l'attività di tante in base a delle regole, a una sentenza completamente opinabile. Ebbene, con una certa amarezza devo constatare che è passato diverso tempo, poco più di due settimane, e non ho raccolto alcun tipo di commento, positivo o negativo, di qualsiasi specie, a proposito del Lago del Salto. Come se l'aver detto alcune cose su un editoriale fosse stato sufficiente a risolvere il problema. Non è assolutamente così. Nessuno ha preso posizione e a volte è troppo facile parlare e semplicemente scrivere su Facebook una lamentela senza poi provare a fare qualche cosa di concreto. In realtà qualche cosa di concreto gli amici in particolare della provincia di Rieti lo hanno fatto e lo fanno da tantissimo tempo e quindi a loro va il merito. Sarebbe stato molto piacevole vedere, sentirsi, contattare anche da direttori di altre testate per poter cercare di organizzare un qualche cosa appunto di comune. Evidentemente non è nella mentalità di molti. Noi di Carpollani proseguiremo comunque la nostra strada denunciando quanto più è possibile le situazioni anomale che si vanno a verificare. Detto questo passiamo alle cose positive. Il 27 aprile, sempre Lago del Salto, si è svolta la gara, la competizione di qualificazione per il World Classic Carpolli. Una manifestazione molto importante è quella del Salto e mentre parlo scorrono alcune delle immagini che mi sono permesso di prelevare direttamente dagli amici Emiliano Gabrielli e Sandro di Cesare che sottolineano l'importanza, il piacere, la bellezza non solo del lago ma di una manifestazione che appunto tende a dare speranza al lago stesso. Ma altrettanto grande è la speranza che viene data con quello che andrà ad accadere nei primi giorni di settembre. Quello che andrà a accadere nei primi giorni di settembre in un altro lago di importanza straordinaria e tartassato dalla pesca professionale quale il lago di Bolsena è appunto il World Classic Carp. Il 30 aprile proprio nella zona di Bolsena si è tenuta la conferenza stampa e nei prossimi giorni pubblicheremo estratti appunto da questo incontro con la stampa internazionale tenuto da Ross Hany, inglese e presidente del comitato organizzatore del World Classic Carp affiancato dall'eccellente Emiliano Gabrielli di Mondo Carp che è la mente italiana e non soltanto per quanto riguarda questa manifestazione. Sottolinea un'importanza della manifestazione che si tiene nel lago di Bolsena perché è un modo chiaro, forte, potente per far comprendere alle amministrazioni ma anche a tutte le attività commerciali rivierasche che i carfishing può rappresentare veramente qualcosa che manca in un momento di crisi economica che può portare un valore aggiunto molto forte, una forma di turismo che si va ad aggiungere alle bellezze che il lago è in grado di offrire, alle facilities che il lago è in grado di offrire e che appunto può dare un qualche cosa in più che in questo momento è altamente auspicabile. Bene, io voglio complimentarmi con coloro che si stanno impegnando in modo veramente grande perché questa manifestazione che noi di Carp Online cercheremo di seguire nel migliore dei modi ovviamente nella massima competenza ottenga il risultato che merita di ottenere l'attenzione mediatica e non soltanto la partecipazione di pubblico che merita e siamo sicuri che sia un'operazione importante e vincente che ci vede assolutamente favorevoli e convinti sostenitori e mi auguro che anche tutti quanti voi che state ascoltando queste mie parole condividiate con noi ed in particolare con chi si sta dedicando con tanta attenzione all'organizzazione e allo svolgimento della futura 3-9 settembre World Classic Carp vogliate appunto fornire il loro sostegno, il sostegno pieno, totale e assoluto. Detto questo ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui con Carp Online. Ciao, grazie.